musica questa era venuta a russia, questa è anche pecore da Turani e questo è chi loco? i fascisti e volevano le pecore e lui gli disse io le pecore ve le do, voi mi avete da una ricevuta e qui lui a posto la ricevuta gli è detto a ciò pentato e lo posso portarlo via per lui tu sai pure chi è stato? quando si fece un processo un padre del gioia era un bastito robusto come me a un giudice gli disse che gli dai, gli sti a me devono passare lui voleva fare giustizia lui ma capito papà? se veramente esiste una legge gli sti devono passare a me e fargli quello che loro hanno fatto a mio figlio fino a questo punto oppure se si è gioia era più piccolo gioia è lui che passa anche poi con lei esatto quello che mi ha insegnato a fischiare questo era... era... sono testimone vivente sai i nomi dei fascisti che l'ha ucciso? cazzo è gondigliano erano? ah erano dei fori grazie